Buongiorno a tutti, innanzitutto, grazie di essere qui. Come da slide parleremo di Loop, parleremo di Planner e di altri tool Microsoft. In questa presentazione ho messo anche le slide che ho chiamato le FacePalm, che vuol dire che sono saltate fuori alcune cose sui prodotti che effettivamente, diciamo così, è meglio conoscerle, è meglio saperle, e un po' stupiscono qualche volta, quindi spero che anche quello sia un valore, insomma, per tutti voi. Ok, vediamo se funziona, ovviamente no. Ok, allora, ringraziamo gli sponsor, ovviamente, ma come quest'anno è stato un aiuto importantissimo, ci hanno permesso di fare delle cose in più a cui avremmo dovuto rinunciare senza loro supporto, quindi se negli altri anni ero assolutamente contento di venire con noi quest'anno, ancora di più. E poi, insomma, i numeri che vedete anche voi spiegano tutto. Allora, questa in genere è la slide noioso in cui io parlo di 25 anni di carriera. Visto che non frega molto a nessuno, ho pensato di rimpiazzarla con tre curiosità sull'Inghilterra, che è il posto dove vivo. La prima è una mappa della location di tutti i pub inglesi. Sostanzialmente, mappando i pub inglesi, mappate l'Inghilterra. Se c'è un villaggio con due persone, uno ha il pub e uno va a bere, quindi lo trovate, insomma. Quell'altra è quello che si chiama la Duck Race, è un modo per fare charity. Sostanzialmente voi date dei soldi a un ente di beneficenza, scusami, non è il termine charity in inglese. Un totto di soldi uguale a un totto di paperelle. Le mettono nel fiume, la prima paperella che arriva vince un premio. Se ci sono delle corporation tipo, ne so, boots, cost, eccetera, c'è una corsa a parte con le papere da un metro. Quindi c'è questa cosa che è molto carina per accogliere soldi. E l'ultima è, vabbè, il rosso sotto lo riconoscete, sono le mailbox quelle inglesi. Ci sono delle signore nei vari villaggi, città, eccetera, che si direttono a fare con l'uncinetto la decorazione per il sopra della mailbox. E quindi va a stagioni, nel senso che c'è quella di Halloween che ci avrà le zucche o quello che gli viene in mente, questa era probabilmente l'incronazione di Carlo o qualcosa del genere. Quindi tre spiccolature. L'unica cosa seria che ci tengo a dire è il lavoro per Exponential League, che è una ditta con sede a Londra, perché è nella zona degli affari Le Mans Street, un'azienda di mille persone, fa networking, fa chiaramente professional services, che è il mio incaico come senior consultant. Ne parlo perché chiaramente loro mi permettono di fare anche queste attività di speech, organizzazione, eccetera, quindi di nuovo chapeau per la loro apertura mentale. Allora, planner, perché ci ho messo davanti new? Che planner è stato in giro per un po', riconoscete l'iconcina perdogno là nell'angolo. Microsoft ha preso l'app di planner, l'ha sostanzialmente ripensata, e l'ha unificata con altre cose che prima erano a sé stante. Vi faccio l'esempio, to do, non so se voi lo usate. Tutu faceva alcune cose che fate in planner, altre che facevate come agenda personale, eccetera. Microsoft ha detto, ok, ha senso che voi saltellate in giro da un'app all'altra per fare queste cose? Probabilmente no. Pensiamo a qualcosa di unificante. Il nuovo planner. Ho messo altri prodotti, quello è il simbolino di monday.com, perché nel nuovo planner c'è anche una parte di project management. Ci vado piano nel di project management e nella prossima slide vi spiego perché. Però potete fare anche una parte di project management nel nuovo planner. E infatti la domanda che ogni tanto qualcuno mi fa è, va bene, allora questo nuovo planner in piazza project, la verità è ni. Planner nella versione premium fa alcune cose che voi fareste dentro project. Quello che voi fate nella versione project plan 5, quindi quella più grossa, non lo potete fare con planner, non tutto. Quindi lo potete immaginare come una via di mezzo fra piano 1 e piano 3 di project, d'accordo? Poi vado un pochino nel dettaglio e vi dico perché questa cosa. Li ho messi di fianco, quello è planner, questo è project. Se voi ci fate caso, comincio a vedere la roba che è molto simile, le timeline, poi vedremo i bucket e così via. Dove gira planner? Gira in due, il nuovo planner, gira in due diverse interfacce. Come app dentro Teams e funziona molto bene, è molto carino, graficamente bello, eccetera. E più c'è la parte web. Quindi l'idea è che lo potete utilizzare più o meno da qualsiasi piattaforma, d'accordo? Allora, come si presenta? Io parlo dell'app dentro Teams che è quella più nuova, quella su cui è stato fatto il lavoro più innovativo. Ci sono tre aree di lavoro. La prima è My Day, poi dall'altro se torniamo indietro, scusate, se torniamo indietro un secondo, qui sulla sinistra lo vedete. My Day, My Task, My Plans. Queste sono le mie tre aree di lavoro dentro planner. Allora, My Day, questo è to do con un vestito nuovo. C'è tutta la lista dei vostri task. Li flegate, vedete se siete in ritardo, bla 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 bla. Che cosa c'è di carino? C'è che qua dentro possono finire anche task che non sono stati creati da planner. Ovvero, se io, e guarda il caso dopo ne parlerò, se io con Loop ti creo un task, tu qua dentro vedi il task che io ti ho creato con Loop, che ha un'iconcina diversa. Quindi diventa un po' una pagina unificante di tutti i vari oggetti Microsoft che stanno in giro e continuano a spararmi i task. L'idea è unifichiamo il più possibile. My Task è un pochino più pianificazione, quindi vedo tutti i task che io ho, non solo quelli di oggi, ma quelli che devo fare da qui a un mese, una settimana e così via. Non ho niente di particolarmente nuovo, questi più o meno li abbiamo visti anche in altre applicazioni. Dopodiché c'è la parte My Plans. Qua dentro ci sono due diverse esperienze. L'utente con una licenza base entra e vede determinate cose, dalla stessa interfaccia, chi ha la licenza per creare i progetti, può creare dei progetti, d'accordo? Quindi non ci sono due esperienze, ci sono due tipi di licenza che ti danno accesso a diverse funzionalità. E si presenta così. Ok, io devo creare un nuovo piano. Piano base o piano premium. Premium è una licenza a sé, che ha un costo. Qual è il punto forte di premium? Non serve neanche che lo dico, copilot. Chiaramente è questo il motivetto che sentirete sempre, quindi anche in questo caso. Ok, io mi sono avventurato, ho detto allora, creiamo un nuovo piano premium, quindi voglio che copilot faccia parte del gioco. Perfetto, crea un nuovo piano. E dopo mi sono messo a parlare con copilot. Dopo questa esperienza ho parlato con un mio amico di Microsoft che mi ha cazziato e mi ha detto ah, ma non è autopilot, è copilot. E ho capito perché. Sono andato da copilot e gli ho detto senti, io devo organizzare una conferenza tecnica. Quali sono i task? Cioè, qual è la lista delle cose che dovrei fare per organizzare una conferenza tecnica? Copilot mi ha detto non so di che stai parlando, cioè. un po' generica come domanda. Ok, hai ragione tu. Mi crei una lista di task per una conferenza che facciamo di persona. Ok, mi ha tirato fuori una lista che, dico la verità, utile e ben fatta. Non ci trovo difetti. E allora poi me la sono giocata sporca e ho detto ah, mi crei da questa lista i task dentro Planner? Beh no, quello te lo fai da solo, io sono copilot, non sono autopilot. Quindi lui ti dà la lista, ma poi te la devi fare da te. Ok, allora vado nella domanda successiva. Dico, senti, ma se tu me la esporti in un file Excel, io poi me la importo dentro Planner. Funziona questa cosa qua? Ma sì, certo, allora tu esporti in Excel, clicchi qua, clicchi là, importi. Ma sono andato a cercare, non esiste questa funzione, quindi qua mi ha dato un'allucinazione. Cioè, nella voglia di rispondere mi ha dato una risposta che non valeva il tempo che ci ho perso sopra. Dopo la cazziata del mio amico ho detto, ok, allora giochiamo a copilot. Allora io gli ho fatto la domanda e gli ho detto, tu sei il mio project manager a questo punto, ci sono dei task di ritardo? Boom, sì, ce n'è uno, il 21, sei ritardo. Ah, ok. Quali sono i prossimi task? Questi stanno in scadenza. Beh, utile, in effetti, non vado in giro per il piano a cercare i task scaduti, eccetera, faccio la domanda e mi dà la risposta. piacevole. Allora, ho di nuovo provato a giocare un pochino sporco e gli ho detto, dico, da questa lista che tu vedi, secondo te manca qualcosa? La risposta è stata più o meno, beh, il tuo piano, io che diavolo ne so, cioè, mi sembra che hai ragione, però non mi espongo, diciamo così. Quindi, attenzione, perché io ci gioco, questa cosa voi la pagate? è il punto forte della licenza premium. Per cui, mi compro la licenza premium, dipende che cosa mi aspetto. Se mi aspetto che Copilot e mi tira fuori il progetto, ho buttato via i miei soldi. È un discorso che abbiamo fatto anche con altre persone in giro per il mondo. L'esperienza con Copilot in tutti gli ambienti Copilot vi deve risolvere un problema e allora vale i soldi che voi spendete. Se però non risolve un vostro problema, ma non pagate a uffo. Allora, dentro Planner abbiamo varie visualizzazioni, tra cui questa qua che si chiama Buckets, i secchielli, sono nient'altro che contenitori logici di task. Quindi io mi creo un secchiello per l'organizzazione, un secchiello per la registrazione e così via, e dentro ci metto i vari task. Metto i task, per ogni task decido qual è la scadenza, che tipo, qua c'è addirittura la parte sprint, questa è roba molto lato project manager, se vogliamo. C'è un calcolo dell'effort, quindi non è più to-do, non è più il vecchio planner, è un fratello piccolo di project. C'è anche una grafica carina, mi permette di mettere i colori, assegno i compiti alle varie persone, con le scadenze, eccetera. E questa è la visualizzazione board. c'è la timeline, che ho solo con la premium, ok? Timeline comoda, perché vedo, ok, oggi chi scadeva, Adele aveva due lavori, ne ha fatto uno. Ipotesi. c'è sempre come premium, una parte che si chiama goals, che sostanzialmente fa la seguente cosa, prendo dei task, li metto insieme, e dico, quando quei task, A, B, C, D ed E, sono stati tutti quanti eseguiti, ho raggiunto il mio goal, il mio obiettivo. Di nuovo, funzione carina, a qualcuno risolve dei problemi, ad altri serve il giusto, insomma, però, c'è, fa parte della license. People, è un'altra visualizzazione, mi permette di vedere i task, divisi per persone. Quindi io vado qua e dico, Adele, piuttosto che, lì, hanno determinati compiti da fare. Assignment, un'altra visualizzazione, che mi permette, in una forma un pochino più, a tabelle, di vedere quali sono i compiti in giro, e mi fa vedere anche l'effort. Di nuovo, per un project manager, questa è roba utile. Se io ho il basic access, quindi non la licenza premium, io comunque posso accedere e vedere la grid, e le charts, queste le vedo con tutte e due le licenze. C'è qualcuno che quando vede i grafici a torta, si arrabbia, perché mi dicono che sono poco chiari, poco intuitivi, la persona che sta facendo la sessione nella stanza di fianco, per dire un nome, Andrea, che è bravissimo con i database, ogni volta che vede un grafico a torta, non lo apprezzo anche anche qui. Ho detto licenze, e qua viene, questa non, ho deciso che non è proprio una face palma, cioè non è proprio una cosa completamente strana, però è borderline. Se io voglio la licenza base, diciamo così, di planner, di pensé fa parte di parecchi piani di Microsoft 365, quindi non devo quasi comprare nulla. se voglio creare sprint, reboot, timeline, task dependencies, e così via, allora già devo dargli 10 dollari al mese. Ma se io voglio copilot, io mi devo comprare project plan tree, quindi 30 dollari al mese. Quindi a quel punto in realtà io ho project e planner. Come dicevo, è una stranezza, nel senso che se questo è un prodotto che più o meno dovrebbe vivere spalla a spalla con project, ma aspetterei che il licensing sia una cosa a sé. Non è così. Quindi questo consideratelo, c'è questo costo. Lo pagate per copilot? Di nuovo, vi serve copilot? Forse sì, forse no. Ok, dopodiché da bravo rompiscato, io mi sono fatto un giro, ho detto, ok, ma tutta questa bella roba che io vedo dentro planner, che mi serve? Cioè in effetti, quando io abito un utente a lavorare in planner, cosa sto facendo? Beh, allora, i compiti che erano roba di to do, e i messaggi autolog, finiscono in exchange. Quindi se l'utente non ha una mailbox exchange online, alcune delle cose non gli funzionano. Buono a sapersi. Piani e task sono archivati in Azure. Giuro su quello che volete, io ho cercato di capire Azure, cosa? Cioè Azure è un po' grande. Non ho avuto modo di capire Azure chi. Quindi, in Azure, nel cloud, da qualche parte c'è la vostra roba. legati ai task e ai piani e ai progetti sono archivati in SharePoint, e alcuni progetti e ai task sono archivati in Dataverse, e infatti se voi vi apriete Power BI, vedete un Dataverse che è quello di Planner. Tant'è vero che la prima volta che voi utilizzate Planner, ci mette un po' perché si crea un Dataverse. quindi come vedete la roba sta un po' dappertutto, non c'è un contenitore chiaro. Allora, un'altra domanda che è stata posta, queste cose vi sto facendo vedere, sono in questa pagina di Microsoft, Microsoft Planner for Admin, che è molto carina perché ci sono le domande quelle tipo le FAQ, ok? L'altra domanda era, ma qualcuno che ha un West, quindi uno esterno alla mia azienda, può utilizzare Planner? Sì, però in realtà ha con funzioni limitate, quindi può fare solo creazione e eliminazione dei compi non bucket, modificare i campi dei compi, allegare un link, modificare il nome del piano, d'accordo? Allora, questo era Planner, il nuovo Planner. Loop. Loop è un pochino più complicato, secondo me, da capire, perché il loop sono tre pezzi, sono i components, le pagine e gli spazi di lavoro. Però il pezzo forte di loop sono i components, dopodiché viene tutto il resto, e vi spiego perché. Un component è un oggetto che io creo in loop, che può essere ad esempio una lista di task, ok, c'è proprio una funzione, la magia in loop si fa con lo slash, slash task mi crea questa griglia di compiti, quindi apro loop, slash task, boom, ho creato questo. Bene, se ho questo oggetto qua, questo oggetto specifico, io lo posso integrare in Outlook, in Teams, quindi in una chat per esempio, ma la cosa interessante è che chiunque aggiorna questo oggetto in uno o qualsiasi degli ambienti, aggiorna le informazioni per tutti, quindi io posso avere le persone che lavorano via mail, le persone che lavorano via Teams, è supportato anche Word, versione web, quindi chiunque apre questo oggetto, ci butta dentro dei dati, questi dati automaticamente sono aggiornati per tutti quelli che sono coinvolti da questo component, e posso dire questo component, e questa è una gran cosa perché uno dei problemi con gli oggetti Microsoft è che se io lavoro in Excel ma poi voglio fare una modifica da Teams e poi voglio vederlo dentro la posta, c'è sempre un po' di attrito, cioè io lo salvo da una parte, poi qualcuno salva un'altra versione, poi lo devo aprire in OneDrive, questo è un component, boom, lo metto dentro, funziona, non ci penso più. Allora, questi sono gli ambienti in cui un oggetto fatto con loops, con loop, scusatemi, è utilizzabile, Teams, Outlook, OneNote, Word, versione web, e whiteboard. Whiteboard è un po' un figlio di nessuno, è un'altra di quelle app che voi avete nelle licenze, è una grossa schermata bianca dove voi potete mettere vari pezzi, quindi come una lavagna bianca, in effetti, e loop vi dà questi componenti, i componenti li posso mettere nella whiteboard, quindi condivido la whiteboard con dentro i componenti. Questo è il primo dei tre pezzi, per quello vi dicevo, loop è un pochettino, è dinamico, ma nel suo essere dinamico vi può essere così, crea confusione. Quindi che cosa faccio? Creo un componente, mando il link a questo componente, e per esempio me lo apro in Teams. Ok? Basta il link, non devo fare nient'altro. Ok, le pagine. Una pagina loop è un oggetto condiviso con gli altri utenti, dove ognuno di questi utenti collabora ed aggiunge oggetti. Quindi io penso che in questa conversazione che stiamo avendo serve una lista di task. Ok. Da loop che è una lista di task. Penso che serve un emoji, slash emoji, e metto il sorrisino. Si può customizzare la grafica, ci metto delle iconcine, insomma diventa un posto vivace, dinamico, in cui si collabora, si lavora insieme. D'accordo? Al di sopra delle pagine ci sono i workspace. Workspace è un posto diciamo sì unificato in cui tutte le persone coinvolte in questo progetto o il simile possono collaborare. Posso creare un nuovo workspace e questo diciamo è un template di default che mi aiuta a partire. Come vedete c'è già della roba pronta del tipo pagina bianca oppure sto gestendo una decisione di un team oppure sto pianificando un progetto. C'è varia robina che è già pronta. Io la clicco e mi parte una pagina nuova con delle caratteristiche. Ok. vi dicevo prima che c'è dell'integrazione quindi queste famose task list che io posso crearmi all'interno di loop in realtà poi le posso in qualche modo sparare dentro planner. Quindi quella lista di task diventa una parte di planner. Ok. Vedete che ho il task che ho il loop component e dopo di che me lo tiro dentro il progetto planner. Ok. Perché stiamo parlando di loop? Perché ci sono state alcune novità che sono state aggiunte praticamente un mese fa o poco di meno. C'è la possibilità di vedere Microsoft Stable Detail View vuol dire che in pratica queste griglie che voi create in loop avete la possibilità di cliccare nell'angolino e vedere i dettagli che stanno dentro. È sostanzialmente un trucco per creare una griglia dentro una griglia. Ok. Quindi voi avete una lista di task all'interno della lista di task potete creare un'altra griglia più piccola con altre informazioni. Table Rule è una bella novità perché io posso prendere una qualsiasi riga della mia lista di task e dire attenzione questo è un task che ha una scadenza. Va fatto entro tot. Ok. Quindi entro che ne so alla fine del mese o entro oggi o entro una settimana questo è un task che scade. Che cosa succede quando scade il task? E là c'è l'automazione. Mandami un messaggio in una chat o in una chat di gruppo o in un canale Teams o addirittura mandami una mail. Quindi creare una lista di task con degli allarmi delle notifiche definiamoli come vogliamo. sono state aggiunte dei template nuovi quindi quando io creo una pagina ah scusate no è un po' diverso qui custom loop templates vuol dire che io posso creare il mio template me ne creo uno nuovo cioè io mi creo una mia pagina che ha determinati tipi di non so griglie colori icone eccetera eccetera e se vedete questo menu in fondo save page as template ovvero il mio lavoro di customizzazione lo salvo come un template e poi lo applico n volte questa è una novità prima non si poteva fare cioè il mio lavoro custom rimaneva una cosa diciamo così a sé stante c'è la possibilità di fare una condivisione con view only quindi visualizzazione e basta ci sono vari tipi di visualizzazione nuova delle tabelle c'è un'integrazione con figma che è un oggetto esterno e c'è la possibilità di rimpicciolire le intestazioni allora un argomento molto gettonato e io dopo aver visto questo ho capito perché era molto gettonato era come disabilito loop me lo sono guardato e dico ok vai nella admin page di office di la piattaforma microsoft 365 org setting microsoft loop bam level of lag e l'ho disabilitato non è propriamente una cosa pulita nel senso che la roba che è stata creata fino a quel momento in qualche modo rimane in giro quindi i file che sono stati creati i task che sono stati creati non è che vengono cancellati se uno aveva l'accesso in qualche modo degli oggetti continua a vederli quindi è una soluzione sì è disabilitato però quello che è fatto un pochino rimane in giro allora uno dei primi motivi per cui diciamo che il loop potrebbe inciampare sulla strada dell'adozione felice è il fatto che se voi avete una licenza office quindi office E3 office E5 per esempio non microsoft 365 ma office che per esempio è quella che vi danno anche con i demo di tenant loop non vi funziona vi serve una E3 o una E5 o una A3 o una A5 oppure una business standard o business premium nel caso in cui voi abbiate la office E3 o la office E5 che ha dentro tantissima roba dall'altro non vi basta e dovete comprarvi una licenza aggiuntiva che si chiama Microsoft 365 extra futures di nuovo internet è grande io ho girato un pochino come il cavolo si compra questa extra futures quanto costa penso che l'unico modo sia probabilmente parlare direttamente con un rappresentativo di Microsoft quindi è importante considerare che se voi avete delle licenze che non fanno parte di questo elenco felice non vi funziona l'up ma il face part mi è arrivato dopo quando ho capito perché tanta gente lo vuole disabilitare permissions io che ho un workspace bene e se voi vedete questo è un articolo Microsoft che sostanzialmente dice c'è un tipo di membership che viene utilizzato da da loop che però non si integra con Microsoft 365 groups o con i security groups che è già una cosa che a me ha fatto un po' venire i bividi ma il meglio viene dopo al momento attuale il momento attuale è ancora oggi cioè controllato ieri i proprietari di uno spazio di un workspace in loop non possono cedere la proprietà di quel workspace ad altre persone non si può fare cioè tu sei il proprietario e quello rimane se il proprietario lascia l'azienda il workspace diventa privo di proprietario perfetto l'amministratore può fare qualcosa no quindi sostanzialmente se Pinco Pallino mi ha creato un workspace loop che a me piace da morire e li dichiamo il giorno dopo e se ne va a me rimane un oggetto bucato o mi prendo l'account del tizio che se n'è andato o se no non c'è modo chiaramente questo diventa anche una bomba a tempo se un giorno io devo migrare faccio un esempio se io un giorno mi devo spostare di tenant o vengo acquisito o una delle mille situazioni da vita in cui la mia azienda in qualche modo si sposta da un punto all'altro non si migra perché c'è questo discorso qua perché non è una membership basata su Microsoft 365 non è una membership basata su gruppi di sicurezza su cosa si è basata è come il discorso di Azure non c'è modo di saperlo la riparano questa cosa no non ci sono piani per sistemarla quindi se adottate loop che ha i suoi provi il suo conto c'è questo buco allora l'ultima cosa di cui volevo parlare poi spero di fare in tempo a fare un giro veloce nel tenant è bookings questo ve lo dico già arriva praticamente con qualsiasi licenza quindi è un oggetto molto carino perché ve lo trovate già bookings vi permette di creare delle pagine di gestione delle presentazioni scusate prenotazioni che possono essere sia interne per la vostra azienda ma possono essere anche tranquillamente delle pagine esterne ok nel mio caso specifico io ho giocato con un oggetto che ho chiamato clinic appointments una clinica medica fittizia che mette una pagina web sulla internet e accetta prenotazioni per visite mediche controlli che è quello che volete voi come vedete ci sono vari tipi di template allora come funziona questo oggetto qui ok parto e gli dico voglio creare una nuova pagina di booking lui mi domanda dice ok che tipo di pagina health care facciamo appunto questa famosa clinica visite mediche e così via come vedete c'è recruiting IT support education financial services cioè le cose non mi mancano ok chi è parte di questa clinica invito il mio staff interno per cui ci saranno infermiere medici eccetera eccetera chiaramente questo è tutto all'interno del mio tenant Microsoft 365 quindi aggiungo gente abbastanza facilmente benissimo ok inizialmente non mi fa customizzare questa pagina qua quindi io inizialmente creo una pagina di una clinica con degli appuntamenti virtuali questo non è un caso booking è andato forte in epoca covid in cui di botto cliniche medici dottori si sono organizzati per fare degli appuntamenti virtuali prendendo appuntamenti virtuali dove certe volte non c'è neanche una persona che ti potrà rispondere al telefono quindi come facevo la prenotazione andavo su un sito internet e mi prenotavo una visita virtuale ok quindi partiamo con una visita virtuale poi vediamo che cosa si può fare chi può prenotare gli appuntamenti posso fare la schedulazione direttamente dalla booking app oppure può essere gente all'interno della mia organizzazione oppure c'è anyone questo appunto è un servizio pubblico esposto ad internet arrivi sulla mia pagina di landing clicchi e vai ok signore e signori la pagina è pronta quell'indirizzo là se ci volete giocare funziona lo vedete dal vostro mobile e vedete la pagina della clinica finta che ho creato quindi con buona pace di chi vi offre servizi web questo mi arriva gratuito ok dopodiché chiaramente quell'oggetto che ho creato è di per sé un draft diciamo un oggetto così primitivo lo posso customizzare come lo customizzo? beh ci sono varie cosettine che posso fare innanzitutto chiaramente la grafica quindi io mi sono creato un logo ci sono dei dettagli di base tipo il nome dell'azienda l'indirizzo dove vi trovate il nome telefono eccetera eccetera molto utile la policy per la privacy abbiamo detto che è un oggetto pubblico su internet e beh io in qualche modo una privacy policy la devo pubblicare quindi ok in che orario sono disponibili i servizi se uso Azure connection service app ovvero se invece che Teams io per il mio servizio ad esempio uso un servizio custom che si poggia su Azure questo si integra di nuovo sempre nell'ottica che per esempio l'appuntamento sia tutto virtuale no? ok benissimo dopo di che vi ho detto io in realtà non darò servizi virtuali queste saranno visite in persona allora io vado nei servizi se gli dico è una visita di persona della durata di 30 minuti ok? posso anche cambiare la pagina posso aggiungere dettagli la cosa molto bella è che questo oggetto qua si siede su Microsoft 365 per cui se io sono occupato in un meeting Teams non sono disponibile per lavorare nella clinica per cui non ho due sistemi di calendari uno dello staff uno del tenant uno di Teams questo qua si siede sul resto del sistema per cui mi rende la vita facile che è quello che voglio poi ok quindi l'ora di dato posso metterci durata la locazione addirittura un buffer time cioè se io so che tra un appuntamento e un altro mi servono 5 minuti per pulire gli strumenti svuotare la sala disinfettare quindi è un oggettino assolutamente carino c'è addirittura l'integrazione con connettori e qua salta fuori Power Automate adesso non so quanti di voi usano Power Automate però è carina questa cosa perché in base al momento in cui qualcuno prende un appuntamento può partire una catena di eventi per cui non so viene mandata una mail viene cancellato un appuntamento più vecchio varie cosine insomma Power Automate è molto intuitivo è molto semplice cioè no così è così è una notizia falsa Power Automate è abbastanza semplice da utilizzare forse lo strumento lo strumento di automazione più semplice che potete trovare in giro perché se vi limitate a stare dentro dei parametri abbastanza diciamo così standard attaccate le azioni una all'altra semplicemente cliccando in giro quindi arriva una mail dopo la mail che cosa succede ci vuole una conferma dentro un form dopo la conferma nel form ci vuole un'altra mail e così via voi fate una catena di eventi se non dovete fare roba particolarmente custom Power Automate per queste cose è fortissimo qual è la user experience? allora io arrivo sulla pagina posso decidere chi è la persona con cui voglio fare la visita posso decidere l'orario fateci caso c'è un buco 10, 10 e mezza 11 e mezza mezzogiorno bla 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 boom 17 perché? perché dalle 15 e 30 alle 17 mod administrator ha degli appuntamenti al calendario meetings team è fuori ufficio ha un paio di ore di permesso e quindi non è disponibile questo è molto comodo perché se io sono una persona che non è particolarmente avvezza all'IT questo tipo di reintegrazione col mio calendario lo voglio cioè non voglio diventare stupido a pensare aspetta devo cliccare la flag devo andare devo fare no via automatico l'utente mette i suoi dettagli numero di telefono indirizzo questa bett io l'ho creata con un sito che si chiama qualcosa tipo create fake identity mi serviva di compilare dei campi che fossero diciamo semirealistici e lui ti crea tutti questi campi qua quindi neanche la fatica di metterci la fantasia insomma ok il risultato è questa pagina qua io ho fatto la mia prenotazione ehi ok grazie per la tua prenotazione ti arriverà a breve un messaggio di conferma e questo qua dall'altro quando l'ho visto mi ha ricordato tremendamente la mail che mi arriva da Prometric quando prenoto gli esami di certificazione quindi spero che non usino booking ma se lo stanno facendo ho capito come funziona ok come vi dicevo dal lato dello staff questo è il mio calendario ed eccoci qua una visita non si vede l'oraio diciamo alle 18 con Betty Diggs come dicevo è un prodotto che è molto amichevole dal punto di vista delle licenze mi basta una E1 o una business basic per avere booking quindi sostanzialmente se ho una licenza tendenzialmente ho anche booking quali sono i casi d'uso dare ai miei clienti una pagina di prenotazioni ma ci sono state anche aziende che hanno usato per organizzare delle vendite ok pianificare riunioni online per insegnanti studenti e genitori ovvero può essere un oggetto interno di pianificazione della mia giornata chi vuole incontrarmi sa che io ricevo che sono il lunedì va nella pagina booking se il mio calendario non è già bloccato lo può bloccare lui ok dopodiché di nuovo questa è la pagina del face palm mi sono fatto un giro su questa simpatica paginetta che è bookings feedback portal che è una pagina ufficiale Microsoft ok dove la gente sostanzialmente spara fuoco e fiamme sul prodotto attenzione molti lo usano uno dei motivi per cui molti utilizzatori di booking si sono inalberati è perché la novità che c'è stata in booking è stato un cambiamento nella pagina di creazione di booking quella che vi ho fatto vedere quella è nuova e la gente giustamente ha detto ma io è un anno che aspetto una soluzione per un problema tecnico uno di questi sì la pagina nuova è carina il mio problema sta lì da un anno allora in realtà la reazione è stata un po' negativa perché c'è delle aspettative un pochino diverse un problema che effettivamente vedo è questo qua tu puoi andare da internet puoi prenotare la tua visita medica ma non ho un filtro cioè non ho modo all'interno di booking di creare una specie di contenitore in cui metto queste richieste in quarantena e poi ti dico ok sì questa è una richiesta legittima oppure no questa è una persona che ce la voglia di perdere tempo la filtriamo ok non c'è questo oggetto qua è vero questa cosa è vera disabilitare anyone questo è un altro problema avete visto quella quella schermatina di drop down in cui dicevo voglio tizio voglio cario voglio modern min come dottore perfetto fra le varie opzioni c'è anyone io potrei dire che per mille motivi questo anyone a me non va bene cioè devi sceglierti il medico con cui fai la tua visita oppure devi sceglierti l'insegnante con cui puoi parlare di nuovo questo non c'è anyone è sempre attivo quindi anche questo per certi scenari in cui ho determinate richieste determinate aspettative non va altro mal di pancia booking interni quindi stiamo parlando di gente che lavora nella stessa azienda ma grado tutto quella paginina di nome come cognome indirizzo eccetera la devo compilare lo stesso e questa sono d'accordo effettivamente è un po' una pazzia perché stai all'interno della piattaforma utilizzi i miei dati utilizzi i miei calendari utilizzi le mie cassette di Outlook non vedo non vedo perché debba mancare questo pezzettino di raccordo insomma allora prima del feedback se riesco al volo ho messo tutto nelle slide perché quando si va in conferenza non si sa mai se funziona la connessione se funziona il computer ci possono essere mille problemi allora questa è l'esperienza di Planner all'interno di Teams d'accordo come vi dicevo prima ci sono le tre paginine my day my task my plans nella my plans come abbiamo detto che ho nuovi piani qui ho comprato la licenza premium beh l'ho comprata informazione utile potete prendere una trial che dura circa un mese quindi potete effettivamente provare se la premium fa per voi oppure no chiamiamo assolutamente provad01 lo pinno quindi lo tengo sempre visibile posso aggiungere già un gruppo di persone che sarà coinvolto in questo progetto vediamo un po' se ho scelto quello giusto type a name plan01 e crea ok qua allora se sono fortunato lo crea e siamo a posto capita talvolta che specie per le premium rimane un po' così in questo in questo limbo diciamo di attesa è dovuto al fatto che come vi ho detto nel back end sta creando dei database sta creando dei dati di informazioni quindi non è detto che tutto fili liscissimo qualche volta se siamo fortunati facendo un bello refresh mi trovo il piano già fatto però anche qua diciamo certe volte forse conviene la pazienza in questo caso sono stato fortunato eccolo qua il mio piano vedete essendo premium license abbiamo tutte quelle visualizzazioni di cui parlavamo prima le varie griglie i goal le persone eccetera e qui di lato eccolo qua copilot che tra l'altro se voi avete copilot per microsoft 365 o altri tipi di copilot beh non è quello questo è copilot per planner quindi se non avete la licenza anche se avete gli altri 10 tipi di copilot non vi funziona questo qui quindi qua come al solito c'è il discorso che voi ci parlate gli chiedete in maniera intuitiva più o meno che ne so quante persone sono disponibili nella mia azienda per un progetto e cose di questo genere adesso non sto a fargli domande perché se le imposto in una maniera sbagliata tira fuori soltanto delle sciocchezze insomma loop vi faccio vedere anche questo al volo loop tra l'altro hanno cambiato di recente le licenze per cui se non avete quelle licenze di cui vi parlavo non potete creare dei workspace comunque loop del bcd 12 ok e come vi dicevo qui in loop ogni volta che io faccio uno slash ecco qua c'è tutta una lista di oggetti che io posso creare d'accordo emoji label imagine addirittura c'è il gif tab eccetera eccetera trello che è un'interazione abbastanza recente posso mettere un etta una persona e di adatele ok guarda stiamo creando una pagina loop raggiungici d'accordo il che mi lascia con due minuti domande prego sì allora ripeto la domanda perché senza microfono allora booking come oggetto di prenotazione di per esempio scrivanie posti auto e simili la mia risposta è microsoft ha tirato fuori un po' di soluzioni per questo tipo di scenario fra cui places che è abbastanza recente detto questo il problema qual è che booking app soprattutto pensato per prenotare persone quello che potresti fare tu è creare delle risorse che sarebbero per esempio piazzola 1 2 3 4 e 5 e quello quando il calendario è occupato è occupato che è quello che si faceva ai vecchi tempi di exchange on prem per prenotare le sale e riunioni e così via la prima risposta è sì lo provi vedi se effettivamente perché la customizzazione è un po' limitata perché ci sono un po' di limiti quindi se ti piace la gioia è che è gratis fa parte della licenza ok prego prego si può limitare si può limitare il tempo di prenotazione ovvero quanto tempo stai sulla mia pagina e poi ti sei addormentato e ti devo cacciare via no su booking intendo nel senso determinati orari e basta sì 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 quando tu customizzi la pagina di booking ti chiede quali sono i giorni e gli orari in cui lavori me lo sono perso allora scusate no tranquilla era una delle migli opzioni che si era nella pagina io sono andato un pochino veloce però sì sì quello si può fare prego prego grazie scusa ti aggiungo un face palm su booking perché lo uso tantissimo e lo trovo utilissimo per fare le formazioni interne all'azienda per esempio non so facciamo la sessione di utilizzo consapevole delle password facciamo non so quattro slot da quattro ore cinquecento dipendenti tu adesso nella demo hai creato una relazione uno one to one ma puoi anche fare one to many quindi hai non so io dico faccio la formazione in questi cinque giorni iscrivetevi lui automaticamente manda il link sul calendar crea anche la room di teams insomma tutto quanto l'unico problema che non sono riuscito a risolverlo in nessuna maniera è lui manda cinquanta inviti a cinquanta persone e quindi io quando arrivo dentro ho già la mia room pronta per fare la mia formazione ma se uno di quei cinquanta nei giorni precedenti si sveglia e decide di cancellare la prenotazione al calendario le droppa tutte cinquanta ho capito quello può essere un problema di permission dentro più che altro exchange mi viene da dirti si può risolvere non lo so perché potrebbe essere un limite di bookings quindi probabilmente tu hai sbattuto la testa addosso a un muro che non ne approfitto per farti una domanda sul nuovo planner hanno aggiunto la possibilità di vedere i changelog di chi fa che cosa perché su quello che c'è adesso non ci sono ed è francamente inutilizzabile per quanto ne so non mi sembra di averli visti però consiglio che il nuovo planner io l'ho provato nell'ultimo mese perché è una cosa abbastanza recente quindi tutti i dettagli non li ho provati non l'ho vista però questa cosa qua quindi potenzialmente ti dico no e sono contento se mi smentiscono perché sono d'accordo con te è una cosa utile grazie ok prima che scappiate via visto che c'è il feedback mi raccomando insomma se la sessione è stata interessante tutto bla 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 ho parlato un sacco quindi me lo sono guadagnato dai questo è un ripasso veloce perché è ristratto vedi ci arriva la pagina dai eccoci qua quasi prenoto non prenoto feedback graditi se sono positivi siamo più contenti ma se sono negativi miglioriamo con l'uso ok e questo è quanto vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti